Forse in pochi lo sanno, ma ad Arezzo in media si tengono 50 aste immobiliari al mese. Un dato cresciuto quasi del doppio tra 2008 e 2009. In molti casi si tratta di persone o aziende vittime di usura che ad Arezzo, malgrado il ritorno in auge del classico strozzino, viene spesso praticata dalle banche. Capita così che la giustizia viaggi a velocità diverse, fulminea quando deve mettere all'asta case o aziende, lenta quando si tratta di indagare a seguito di denunce penali per usura presentate contro gli istituti bancari. Noi abbiamo soggetti che hanno denunciato usura bancaria e anche usura privata che sono tre anni che sono in attesa di una risposta da parte della magistratura penale. Che succede? Che nel frattempo le esecuzioni immobiliari vanno avanti, queste persone perdono tutto e le stesse persone indagate per usura prendono nuove somme e nuovi introiti dalle vendite bene all'asta. Non abbiamo neanche notizia di persone indagate per usura o di imprese bancarie indagate di cui i funzionari sono indagati per usura che si sono sottratti dalla vendita dei beni, anzi continuano ad andare avanti a vendere i beni dei malcapitati, nonostante che siano indagati. Tra i casi di cui si sta occupando l'associazione SOS Abusi di Arezzo c'è quello di una signora rimasta vedova che non riesce a ottenere giustizia e che rischia di perdere tutto. Ad oggi questa persona, questa vedova rischia di perdere l'abitazione, l'unica dimora dove vive, fra l'altro con pensione sociale perché il marito non ha lasciato nulla. La banca che sta promuovendo l'esecuzione, sta agendo in forza di un mutuo di scopo che è nullo per la legge e per la sentenza della Corte di Cassazione, sta disponendo le vendite dei beni immobili secondo noi in modo del tutto immotivato perché la legge starebbe dalla parte di questa vittima.